Il nostro coinvolgimento in questa situazione è partita con la morte del cane Oscar che ha scosso un po' i social, questo cane di Viest che è morto senza avere nessuna cura quando si è sentito male. Ebbene sì, in tutta la provincia di Foggia manca un presidio veterinario notturno. Gli ambulatori veterinari di fatto non hanno un obbligo di presidio H24 e dunque in caso di necessità ed emergenza non resta che affidarsi al buon cuore di qualche medico reperibile e in caso contrario provare la corsa disperata verso Bari. Ma i cittadini non accettano quella che ritengono essere una grave forma di inciviltà e hanno provato a chiedere risposte a chi di competenza. Dunque noi siamo stati contattati e quindi abbiamo preso parte insieme ad altre associazioni ambientaliste e ad Europa Verde ad un incontro che si è tenuto prima con il Presidente dell'Ordine dei Veterinari e poi abbiamo deciso di andare a parlare con il Commissario Giangrande. C'è stato questo incontro che è stato da parte del Commissario favorevole, nel senso che ci ha ascoltato, ha ascoltato le nostre richieste, le nostre istanze, però quello che si evidenzia è che non ci siano soldi nel bilancio per questa cosa. Tra le motivazioni per le quali questo servizio non si ritiene fondamentale, ce n'è una che lascia la mare in bocca. Sì, secondo il Commissario gli animali sono un lusso. Noi riteniamo che non sia così, perché gli animali sono animali d'affezione, quindi da compagnia diventano dei veri membri della famiglia. A parte che ci sono animali che sappiamo bene che servono anche come sostegno terapeutico, ricordiamolo per l'autismo, per la depressione, quindi non si può pensare ed equiparare un animale di qualunque genere esso sia ad un oggetto o pensare che valga solo il discorso del bilancio e quindi del considerare i conti. Grazie. Grazie. Grazie.